Sono Lidia Vittoria Tisari dell'Università di Bologna e alla fine di questa giornata, di questa presentazione dove abbiamo sottolineato l'importanza del suolo, voi sapete che il 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, quindi in tutte le nazioni, in tutte le città viene celebrato il suolo e noi quest'anno la organizziamo ad Ancona e volevamo portare il lavoro che abbiamo fatto qui da voi, qui con voi, perché per noi è molto importante la divulgazione e la conoscenza dei problemi legati al suolo. Quindi vi ringrazio moltissimo per il lavoro fatto e quindi se siete d'accordo lo portiamo in questa giornata mondiale italiana.